buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di payday 2 oggi ci troviamo qui con shushwil salve io sono quello che ha la bileda in faccia bene sei molto attraente ti scoprerei dalla mattina alla sera sembro un musulmano esattamente allora in questo video facciamo il colpo in banca denaro con le tre vecchie stelline che c'erano prima ora non ci sono più ovviamente e come vi ho già detto nel vlog i video ora li faccio con un'altra persona cioè shushwil e non li faccio più con petoman scorreggi di meno questo è sicuro ma magari non le senti perché le sono silenziose ma ammazzano qualcuno appunto tipo ninja allora io direi di iniziare il colpo vabbè ci prepariamo poi dentro allora con shushwil faremo molto i cretini sicuro ma perché mi tratti così male sempre perché sei una puttana shushwil dai dillo dillo apertamente dillo proprio tu si va bene do il culo a 50 euro dillo che lo dai anche a 5 euro va bene dai anche a 50 euro basta che mi comprate le gole adoro ah bravo shushwil allora che arma mi porto oggi questa qui dai sacca di munizioni la porti tu ma ce l'abbiamo anche quella sblocca no io porto il medikit come sempre io porto una centrican va e le munizioni allora c'è la sacca di munizioni che la compriamo ora ah benissimo poi body bags le compriamo comunque informazioni riservate le ormai le sono a memoria kit medico trasmissione telecamere non ci servono a molto autista esperto e no non ci serve dai e tanto alla fine basta che gli sparano due colpi sul furgone fuori servizio allora cosa cosa facciamo ci portiamo la silenziata e direi nel caso le cose vanno male togliamo il silenziatore glielo lanciamo e il punto è che non lo possiamo togliere il silenziatore e secondo te lo possiamo lanciare anche ma stavo scherzando nella realtà si lo stacchi e lo lanci in testa o se no se non riesci a staccare lo lanci direttamente la pistola non è un problema in stile boomerang poi dai dai vetti pronto poi io porto l'mp5 se per te va bene porta quello che vuoi l'importante è che c'hai la secondaria silenziata dato che mi rompi sempre i coglioni ricordo il problema è che qui c'è il vicino che sta spazzando con la scopa io lo sento dc ci sono giusto ma se no non iniziamo allora pene ragazzi ehm lo so lo so allora sto giocando con 15 fps ma ormai sono abituato per sopra Un album di fotografie C'hai no? Si Posso contare sulle mie mani i fotogrammi con cui gioco Dov'è Shush Oh bravo qua c'è già il direttore Salve signor direttore vuole parlare un po'? Questa è l'aste più conosciuta di sto gioco Perché lei è più alto di me? Ma guarda Non c'ha la targhetta Voglio essere inculato però gliela potresti mettere tu Ok dopo essere rimasto senza parole puoi darti un colpo in faccia C'è una pietra Perché c'è una pietra qui per te? In un parcheggio Facciamo una cosa Tu pigli il borsone e mi stai dietro io spacco le telecamere? Cosa? Hai capito mezza parola No non ho capito Tu pigli il borsone e mi stai dietro io spacco le telecamere Aspetta aspetta fermo Io mi sono praticamente dimenticato tutti i tasti Con F Ah beh vabbè che sto gioco me lo tocco da almeno due mesi pure io Se per questo non apro steam da fine aprile Allora Qui Sì sicuro Qui alla nostra sinistra c'è una telecamera Questa me lo ricordo a memoria Eccola qui Merda la porta è aperta qui Chiudi la Eh non posso Non la sbattere In sto gioco quando apri le porte non le puoi chiudere Eh si sa come mai Le apri e poi boh Cioè le porte esistono No sono incapaci le persone sto gioco di chiudere le porte Le aprono solo Tipo le persone Il primo inventore della porta Nel Allora qua c'è un'altra Sì qua c'è un'altra telecamera Ti inizio a sentire male Ti sento male Mi sa che abbiamo perso Shushville Sì lo sento di merda Chi? A te A chi ti devo sentire di merda Comunque Quei due luoghi che abbiamo visto Dove ci sono le telecamere Solitamente ci sono Ma solitamente No allo stesso tempo Quindi State sempre ben attenti Noi utilizziamo il metodo di entrare dal tetto E se riusciamo la facciamo stealth Perché a noi piacciono le tette Mi sa che hanno beccato la telecamera rotta Quindi mi sa che salta lo stealth Sta chiamando? Sì sta chiamando Merda Ma mi sa che non lo raggiungo in tempo Merda Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Avevamo appena detto Ma sì facciamo la stealth Si iniziava a correre un secondo prima Potenziamo i trapani di Shushwil Perché è l'incapace Non sa farli più veloci Leghi i civili E butta subito il trapano Io ti potenzio Io ti potenzio questo E vado a cercare la carta del direttore Oh guarda chi c'è qua Li sposti tu ai civili? Ehm no Qua c'è la carta del direttore Ci conviene spostarli nella stanza di sicurezza Appena l'apriamo Vabbè C'ho il pass Quindi possiamo già aprirla ora Qua c'è sempre una guardia Scusate un po' il lag eccessivo Ma non mi gira molto bene Su sta scheda grafica Già lo sapete tutti Però sappiamo tutti anche che Ghost Si sta per fare il PC da gaming Assolutamente no Perché Ghost è ricco Ma non ve lo vuole far sapere Eh già E che se no Tutti mi frega di solito Possiamo gli ostaggi Nella stanza quella là No ma dai Io li sto spostando qua dentro Merda qualcosa mi ha fatto male Qualcuno mi ha lanciato una pietra Ci conviene che qualcuno va A prendere le assi Fai che spostare tu gli ostaggi E vado a prendere le assi Vai Ma lasci Lasciameli mettere a me i trapani Che sono già potenziati Ma almeno Oh ci sono delle assi qui Ti avevo detto solo di buttarle a terra Prendile e montale davanti alla finestra Alla finestra del Quale? Davanti alla finestra della casaforte Blah 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 Non riesco più a parlare Allora Ce le spaccano in tre secondi No non per forza Devo prenderci un po' la mano di nuovo con gli sparatutti Gli sparatutti Gli sparatutti? Gli sparatutti Stai a sparati a chi? A tutti A tutti Ma come a tutti? A tutti Esattamente Dai non dirmi Gli hai già presi i soldi? Non aprire quella porta No non ho preso nessun soldo Sto pensando alle asse Dal regista di non aprire quella porta Perché poi non puoi più chiuderla su payday Oh ma magari lo aggiusti il trapano Eh sto prendendo le assi Te l'ho detto mezz'ora fa E io non li sto spostando gli ostaggi Ah si basta che ce ne abbiamo due o tre nella stanza Poi siamo al sicuro Siamo al sicuro Allora Guarda chi c'è qua Si nascondono O ci sono soldi Giù 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 Prendiamo i money Sparano Come potete notare In questo gioco barricano senza fare nulla Appena finisce il cerchiolino Compaiono le assi Normalità Ti sta antipatico o sto stagio che la vuoi tenere? Eh si deve si muove Ah ma ho già capito le idee che hai tu Vai divertiti Eh 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 Oh qua non c'è nessuno Meno male che ho messo difficile Oh guarda questo stronzo che mi ha tirato un cazzotto Sembra più facile di un pene Non lo so Di un pene non lo so Ho detto la parolina magica E ora ci vengono ad ammazzare Merda Non riesco più a mirare Ha un ucciso il direttore Meno male Già non lo sopportavo Ma qui si vede Eeeh Ripara il trapano Dato che non riesco più a mirare Eh sto spostando il direttore Il genio che non riesce a mirare Yeah Oh madonna Ma ma cioè che cosa c'ha i soldi Nelle orecchie Che non mi capisci Vieni Secondo te cosa ti aspetti Che abbia un direttore di una banca Eh dove sono i simpaticoni Non dirmi che è tutta qua la difficoltà Ma questo che sta in piedi Nel bel mezzo di una Di una sparatoria Oh non riesco a beccarlo È incredibile Merda Pure il fumogeno ci mancava Così lagga Go go Guarda chi c'è lì Sono senza munizioni Per la prima aria Vado a ricaricarmi un attimo Ma te sei il genio Che ha preso il kit medico Cazzo Non potevi portare le munizioni Eh oh eh Il kit medico serve eh Sì Quando hai finito le munizioni Che ti ammazzano Ovvio che serve Cosa? Niente Ti avvicini al trapano Fai per andartene Si fa Ma è più lo stronzo eh Eh io c'ho il coso Ho messo il coso che si ripara da solo Perché esce delle piccole manine Sì Manine elettroniche Però quando vuole lui eh Non sempre Quando vuole lui Se c'ha voglia Se c'ha voglia Se c'ha voglia Al 40% di probabilità Si ripara da solo Dice Ma vabbè ma sai che c'è Ma mo mi riparo quasi quasi Visto che non c'ho nulla da fare C'è Kino? C'è Kino l'ho visto anch'io Lo uccidi tu? Eh se trovo dov'è Eccolo lì Dovrebbe essere morto Sì è morto Sento il figlio di puttana Clocker? Sì Ormai Merda Come si fa il corpo a corpo qui? Me lo son dimenticato Io ce l'ho Eh qui Sì è giusto Diamo pugni a tutti No ma la cosa buona è che io non do pugni Io coltello direttamente Oh si è aperta la cassa La mshche La cassa mshche Dai iniziamo a riempire i borsoni e portiamoli che non c'è ancora l'assalto Ok c'è l'assalto Mi chiedo a cosa serve a mirare ormai in sto gioco Senti facciamo che tu le Che culo è vicino Ma dai Apriamo sì e no Due o tre cassette di sicurezza perché sennò il video viene Ti ricordi quella volta che le abbiamo aperte tutte? Sì Si è stati un'ora e mezza col tasto sulla F tutto il tempo Da manicomio Poi per colpa di qualcuno si è morti ma Ma mi ricordo perfettamente che non è stata colpa mia No no io mi ricordo perfettamente che è stata colpa tua Nonostante sia stata colpa mia Sì perché abbiamo perso tutte le cassette Poi non mi ricordo perché siamo morti Abbiamo detto tutti e due andiamocene via A metà strada ci siamo fatti ammazzare tutti I bot ovviamente erano ancora dentro la cassaforte perché è normale Guarda i simpaticoni laggiù che cercano di arrivare Che birbanti Bellissimo il nuovo trailer di P.D.2 Vero mi piace Tieni Probabilmente è uscito un mese fa ma noi non lo sappiamo Cazzo Shield Dov'è lo shield? È quello che con 15 fps riesco a giocare normalmente L'abitudine Oh i simpaticoni gialli I simpsons Ci sono i simpaticoni e i simpaticoni gialli Tradotti in simpsons Meno male che non c'è il fuoco amico Sennò avrei ammazzato un bot Si mimetizzano pure? Giorno Giorno anche a lei Però Con una Bernetti silenziata Colpi in testa e via Ammazzi tutti No questo non vuole morire Figlio di puttana Dovrebbe essere rimasto l'ultimo Cazzo Cosa cazzo? Ciao la primaria scarica E troppa gente Ci pensa il sash E beh Finito le muni per l'aprivo Aspetta un attimo Aspetta che si ricarica la vita Quanti borsoni ci sono ancora? Finiti tutti Li abbiamo presi Vuoi aprire due o tre cassette E poi ce ne abbiamo Come minimo No solo che non voglio che venga troppo lungo Perché Taser Colpi in testa Un caricatore di Bernetti per un taser Via Però è giusto due o tre Che non voglio perdere troppo tempo Iniziamo ordinatamente dalla fila Io B perché il mio cognome inizia con B Anche il mio però Uuuu Uuuu Ebbene con le stesse lettere Praticamente nel nome Tranne la C E la C sai per cosa sta? Per cazzo Eh quello che piace troppo a te Gioielli Solo il tuo però Sei una troia gay Ok ah Vi devo presentare un amico gay Perché in tutti i miei video Non c'è stato ancora un amico gay Lui è gay Ma sono con te Non sono fro Ti devo dare sta notizia Sai che ti devi cercare un altro cazzo Perché io non sono frocio Ma se ne raccompiasi tu Quello che fino adesso L'ha preso in culo No no Forse hai capito male Non è che ti stai sbagliando Con qualche altro frocio Che ti sei fatto ultimamente È probabile Eh Che soffre anche di disturbi di memoria Non si ricorda neanche chi si tromba No a certe volte Devo dire la verità Bello Tre casse di fila Guarda chi c'è lì La gente La gente La gente La gente Solo che non ho Le donne Sì la gente La gente Formato donna La gente La gente La gente Con due G Sì sì GG Good game Che è una cosa che ti ho insegnato io Ma lo ho No non è vero Lo sapevo già io Me l'ha detto un poliziotto l'altro giorno E al poliziotto gliel'ha detto un uccellino Beh Allora non sono l'unico Che frocio di merda Ho payday 3258 No questa è l'ultima Poi ce ne andiamo Che se no diventa veramente noioso Sì Ecco quanto mi dà questa giornata No perché ho smesso di farla Genio Filiale della banca Questa è una banca di dimensioni media Ma non sarà facile Ci interessano gli shush Eh i contanti Dovrete entrare nel cavo Tirare fuori shush wheel E perforrare il cavo Bene bene Hai capito qualcosa? Il bello di sto gioco Che nessuno le caga Le cose che dicono nella descrizione Un po' come quando parli Oh questa era cattiva Senza parole Costo te ne stai andando? Sì Ciao No Io scappo Voglio stare lontano da shush Sì ma vieni Non c'ho più voglia di aprire le cassette Borsone d'oro bitch Sei una puttana Tutti gli effetti No quello no Il borsone si Sto lo prendo va No il borsone se c'è lo prendi Eh no sti cazzi Puttana non c'era Cesar No clocker Ma si è finita la missione E fu così che all'ultimo ci fece secchi Minchia Mi stavo correndo a borsone Stavo urlando nella sua lingua strana Peggio di del Kerbonauti di Kerbal Ma perché il mio cosino quando salta Sembra tipo che non ci sia gravità Beh lo posso salire anche sul tetto del cane Great work man Great work E' stato troppo easy sta missione Già solo per il fatto che non son morto E non potevamo pure risparmiarci di prendere i borsoni Ti rendi conto che se facevamo spie avremmo guadagnato almeno 2 milioni facili facili Non sai cosa me ne faccio con l'esperienza che ho ricevuto in questo lavoro Ti ci pulisci il culo Meglio Cosa fai? Me la mangio Perso i soldi perso Commetto che è una maschera Cioè già mi fosse uscita Scusate per questa interruzione imprevista Ma mi è crashato Payday alla fine della missione Comunque volevo solo dire Che per chi sta vedendo questo video E vuole sapere Quando arrivano tutte le cose che ho detto su Minecraft Arriveranno da martedì in poi della prossima settimana Perché vi ricordo che devo registrare con alcune persone Anche se io sono libero loro magari non lo sono Quindi ci vediamo al prossimo episodio E ciao a tutti